L'Hockey Forte dei Marmi in Champions League ha pareggiato 3-3 sulla pista del Deportivo Liseo. Cancela porta avanti i padroni di casa per il parziale del primo tempo 1-0. Dopo 10 minuti dal via della ripresa pareggia Ambrosio. Riccardo però riporta avanti i suoi. Compagno trova il 2-2. Negli ultimi tre minuti Federico Ambrosio va in rete per il 3-2 dei Rosso Blu, ma Riccardo firma il 3-3 finale. Pareggio 1-1 tra Barcelos e Barcellona per una classifica che vede in testa a 10 punti il Barca, seguito dal Barcelos a 7, Forte dei Marmi 4, Liseo Deportivo 1. Tomar Trissino è finita 2-2, Oliver Enzelodi 3-4. Sabato per il campionato di Serie A2 il Cdc Viareggio capolista del Girone B gioca in trasferta. al Palamaliseti di Prato. La farma e Pumas ancora a Viareggio ospita il Salerno. La rutellistica Camaiore domenica alle 18 è contro il Follonica in trasferta. Braccio di ferro tra Hockey, Forte e Castiglione, che hanno vinto fino ad ora una gara a testa con i versiliesi, che hanno conquistato un pareggio in più.